Direi di sì, siamo contenti, abbiamo lavorato apposta perché questa opportunità venisse colta dai nostri concittadini, siamo partiti per prima, sia con il precedente bonus, quello che ho 8 del 70%, sia con il super bonus del 110%. E fra l'altro le richieste stanno arrivando, proprio perché si è visto che lavorando insieme, lavorando i professionisti, le aziende, gli amministratori di condominio e ovviamente l'amministrazione comunale, si può far partire questi cantieri che fanno risparmiare soldi ai condomini, che riqualificano i mobili e soprattutto danno una risposta anche all'inquinamento ambientale in tempi rapidi e senza spese. Io penso sia una bella opportunità, il fatto che si sia i primi è qualcosa di cui andare orgogliosi, adesso non c'è da fermarsi, bisogna continuare a lavorare, però il fatto che anche il governo abbia riconosciuto questa buona pratica, vorrei dire buonissima pratica, è un ulteriore elemento di soddisfazione. Grazie a tutti.